Buongiorno e bentrovati nel mio orto, sono Filippo, questo è il mio orto tutto terrazzato, vedete ha una pendenza micidiale del 35% e l'unico modo per utilizzarlo è utilizzare questo sistema, quindi un po' di terrazzamenti per evitare l'erosione, per evitare la perdita di terreno e creare comunque del suolo fertile. Ieri ho posizionato questi tronchi anche in questa parte basale dell'orto, fino in fondo sono una trentina di metri circa, da questa parte c'è l'edera che mi fa da tappezzante verde, mentre in fondo l'edera non è ancora riuscita a prendere il sopravvento, l'anno scorso ho coperto tutto lo spazio con i cartoni eccetera per far deperire le infestanti, quest'anno però volevo utilizzare anche questa parte di orto per posizionarci qualche ortaggio. Il terreno è tutto terrazzato, avendo una pendenza del 35% ho posizionato tronchi di legno in modo orizzontale rispetto alla pendenza, quindi questi mi fanno da contenimento e mi permette di avere dei terrazzamenti, quindi i primi erano già abbastanza sfruttati. Adesso questa parte qua è comunque gestita con una sorta di agoflorestazione, dove le piante mi fanno sia da contenimento dei tronchi, sia comunque apportano tutti i benefici che le piante possono avere in un terreno coltivato, per cui anche quello dell'ombreggiamento, nonché in questa stagione poi sono fantastici perché stanno fiorendo tutte le piante da frutto e quindi mi fanno anche un servizio per gli insetti impollinatori. Questa zona qua chiaramente era un po' svantaggiata, l'edera non è riuscita a crescere, quindi una volta posizionati questi bei tronchi che mi faranno un po' di contenimento col terriccio che dovesse mai dilavarsi un po' e quindi anche da riserva d'acqua in modo che il terriccio si accumula all'intorno di questi tronchi e mi crea un po' di fertilità. Considerate che anche questi tronchi qua prima erano assolutamente scoperti e non erano riempiti come sono adesso, quindi col tempo l'accumulo di sostanze organiche e quindi un po' di terreno che si dilava crea il terriccio intorno ai tronchi e crea quindi fertilità, la possibilità di utilizzare il terreno. Anche quegli altri terrazzamenti ovviamente sono stati riempiti con un po' di tempo. Tutto l'orto è utilizzato in maniera costante creando appunto questi terrazzamenti che è l'unico modo per poter coltivare in una pendenza così importante del 35%. Questi terrazzamenti chiaramente mi permettono anche di accumulare risorse e fertilità e soprattutto mi permettono anche di poter seminare in corrispondenza di questi tronchi che sono stati recuperati comunque dal bosco, quindi per la maggior parte sono tutti alberi caduti nel bosco, come vedete non sono tagli freschi. Quindi l'idea di oggi è posizionare in prossimità di questi tronchi, in questa parte qua che è scoperta, uno per coprire il suolo e due per sfruttare al massimo ogni centimetro di terreno, delle zucche che mi andranno a fare una bella copertura da qua ai prossimi mesi per la stagione estiva e mi copriranno impedendo quindi le erbacce di crescere e in più ci daranno a fine stagione anche delle zucche. Il cordino chiaramente l'ho messo solo per avere un po' il filo, tanto per rendervi conto fino in fondo. Dalla parte terminale dove c'è l'edera non penso che andrò a seminare le zucche, però questa parte qua decisamente volevo sfruttarla. Quindi devo sfruttare il più possibile, copro il terreno con le zucche e mi faranno quindi da copertura, da contenimento e permetteranno anche possibilmente all'edera di crescere e stabilirsi per l'anno prossimo. Ho assolutamente abbondato con i semi in modo da avere una copertura massiccia, comunque confido di avere anche un ottimo raccolto perché comunque le zucche non deludono mai. Da questo melo in fiore vi saluto, iscrivetevi al canale, fate un mi piace, commentate se avete bisogno qualche specifica o qualche suggerimento da darmi. Ci vediamo al prossimo video.